Musica 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 rubamoglielo regalo, rubamoglielo regalo, rubamoglielo regalo rubamoglielo regalo no oddio tutti sul caro armato regalo no, ma ne ha giocato no, sto sotto c'ha paura, va dov'è il viso con i maschi? secondo me l'alfa che si sta fatturizzata i maschi c'ho solo un colpo di lanciare dite, ne è premuto triangolo questa lì si ah, si, ecco surprise motherfucker toasty li hai rubato si no devi vedere la scena, devi vedere no, dammi ci ah ja, non c'è rimasto male, ma! si vai su c'ho c'ho Sì, apri questa foto 6 e a half hours later Io non mi riparino Le montavano, non sapevo Che cazzo Che c'è la foto Che c'è la foto Non si? Non si? Ma siamo un' possibilità, boste No, non ci? Non si? ma perchè compare la cosa la? la moto? ma che è un buon punto? girate grazie che è successo? girate per te ah compariamo perchè mi sembra un mensile per adesso ah devo difendere con l'area con l'area oh ma raga io ho trovato 8 minuti e 54 due minuti perchè? è tornato a dormire va a dormire stavo a divertire non te ne vai no si si ma si dov'hai? ma come ti cerca di rubare la torretta? non puoi ma come ti cerca di rubare la torretta? la torretta potresti provare però è rischioso te ne hai premuto triangolo però non so sicuro ma si non fai si è tanto ritmo di tornare quindi avvicinati si muove avvicinati tienimi in modo triangolo tienimi in modo triangolo tienimi in modo triangolo dai vai no entro dall'altra parte del passeggero fai te black lo facciai tu facciai pure io tu li fai dobbiamo prova ma dai li fai dobbiamo black fai vieni vieni la distrazione fai ci sbaglio te li fai dobbiamo fare il passeggero bravo ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah no 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 inin mare hanno chiamato l'insurgent Non si può entrare, non si può entrare Perché? Eh, perché ha messo il cesto al veicolo No, che strumento Non mi fanno entrare, rigo Che cattivo Tra le fragrate No Non 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 C***o Monettina, monetina Sono qui quei barboni che si affiancono mentre c'è sta in rosso Ma che vuoi aiutarmi a mia famiglia? Stai andando in fondo Ma perché siete scegli? Surprise, motherfucker! Che strozzo! Entra, entra, entra! Te ne è venuto di angolo Novo! Adesso non ha giusto Che cazzo! Ma che cazzo? Pono, 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 passeggeri, te ne hai venuto triangolo. Si è incastrato, si è incastrato, chi ha fatto? Piagano, piagano. Surprise, motherfucker! Ti posso dire una cosa in rumanesco? Eh. Ma non staremo a fare una cazzata.